Assaggiamo un rosso del Friuli Venezia Giulia. Il Friuli è una regione conosciuta sicuramente per i suoi vini bianchi, anzi direi che i più grandi vini bianchi d'Italia è prima che iniziasse, non dico la moda, ma prima che iniziasse quel periodo storico in cui si è piantato in Italia molto Sauvignon, molto Chardonnay. Ecco, il Friuli era già presente con dei grandi bianchi fatti di Sauvignon, fatti di altre varietà, autotone, il Tokai mi viene in mente ed ora da un po' di tempo si sono affermati anche i vini rossi del Friuli, sono vini più leggeri rispetto ai vini della Toscana, io paragono sempre i rossi alla Toscana perché la mia storia vinicola è una storia fortemente legata alla Toscana. Bellissimo questo rosso del Castello di Spezia, si chiama il Rassauer e se penso che nel Castello di Spezia ci ha soggiornato Giacomo Casanova che ha scritto anche delle cose importanti nei suoi soggiorni a Spezia e poi assaggiando questo vino penso a quanto importante sorseggiarlo poteva essere per un uomo come Casanova che aveva anche bisogno di ristorarsi e di rilassarsi con le fanciulle della zona, sono stato tante volte a Spezia e ricordo che sono delle bellissime ragazze che si aggirano intorno al Castello, quindi ecco questo è un vino che a me piace molto perché sono emozioni e ricordi molto particolari dei miei soggiorni nel Castello. Grazie a tutti!